La SLA è una malattia importante che colpisce molti giovani in tutto il mondo, quindi aiutiamo la fondazione ALS Malta per trovare dei fondi per aiutare questi ragazzi che lottano tutti i giorni contro questa malattia difficile. No, 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 no. Allora, la SLA è una maletta terribile, vi invito a fare una donazione a LS Malta, lo faccio io, e vi ringraziamo, aiutiamo di aprire i sogni di noi, grazie. Grazie mille, grazie a tutti.